Il 2016 e il 2017 potrebbero davvero essere gli anni della ripresa, del resto in quelli precedenti si è toccato il fondo. Così il presidente della Camera di Commercio, Andrea Sereni, nel raccontare il rapporto Excelsior 2015, quella che è una sorta di previsione, di fotografia dell'economia aretina. I dati sono confortanti per quanto riguarda il numero delle aziende all'interno della nostra provincia che crescono e rimane un punto debole che è quello della disoccupazione, in maniera particolare della disoccupazione giovanile. Il numero dei fuoriusciti dal mondo del lavoro rimane maggiore rispetto alle entrate, anche se devo dire in maniera nettamente inferiore rispetto agli anni precedenti. Quindi questa emoragia di posti di lavoro sembra essersi arrestata. Le aziende di fatto inizieranno, credo dal 2016 al 2017, di nuovo ad assumere. Le maestranze italiane sono più valorizzate in questo periodo? Finalmente c'è questa svolta, che è la svolta che si aspettava e si attendeva davvero da tempo. Il produrre all'estero non è più vantaggioso, quindi le motivazioni sono molteplici, in maniera particolare la svalutazione del valore dell'euro sul dollaro e poi soprattutto in ultima analisi non dimentichiamo che la capacità del saper fare tipica delle nostre maestranze è quella che ha fatto sì che il Made in Italy sia un'eccellenza al mondo. Le nuove assunzioni saranno prevalentemente con contratti flessibili ancora e con tempo determinato. Vi è comunque una importante crescita non marginale rispetto allo scorso anno dei tempi indeterminati. Sono sì residuali rispetto a quelle altre due forme contrattuali, ma sono in netta crescita. E vorrei anche ricordare che le imprese che assumono sono soprattutto quelle del terziario e, come dicevo prima, anche quelle imprese medio-grandi con forte vocazione all'export. Le nostre imprese, soprattutto quelle più strutturate, come dicevamo prima, quelle che innovano, quelle che esportano, vogliono un profilo professionale abbastanza specialistico, quindi diplomati e laureati. laureati in ingegneria dell'informatica, per esempio, ma anche in economia, diplomati in indirizzi professionali specifici, come il turistico alberghiero. Molte aziende poi fanno qualcosa di più, scelgono la persona sulla base di un profilo professionale, ma poi formano il soggetto all'interno dell'azienda.